Grande successo per il Giro delle Acque organizzato dal Marathon Club Non Solo Corsa. Atleti giunti da molte città hanno partecipato alla manifestazione sportiva che si è tenuta in una splendida giornata di inizio anno. A festeggiare in musica alla fine della maratona anche nella presentanza dell'amministrazione comunale con il sindaco, i consiglieri Salvatore Ercolano e Rosanna Esposito e l'assessore Pino Rubino. A festeggiare in musica alla fine della maratona anche nella presentanza dell'amministrazione comunale con il sindaco, i consiglieri Salvatore Ercolano e Rosanna Esposito e l'assessore Pino Rubino. A festeggiare in musica alla fine della maratona anche nella presentanza dell'amministrazione comunale con il sindaco, i consiglieri Salvatore Ercolano e Rosanna Esposito e l'assessore Pino Rubino.